Ciao, sono Andrea. Benvenuti alla nuova pilola di sicurezza informatica. Oggi parleremo di password. Che cosa fa sì che una password sia sicura? Sicuramente un principio base è che la password è sicura se è complessa e se è lunga. Una password non sicura potrebbe ad esempio essere una password derivata dai caratteri della tastiera digitati in sequenza come qwerty123456 ma anche una parola del dizionario italiano per noi italiani potrebbe essere una password insicura. Ad esempio anguria non è una password sicura, è corta ed è una parola del dizionario. Non mettete nelle password nomi, cognomi, date di nascita perché sono tutte informazioni che in qualche modo potrebbero essere rintracciabili sui siti, sui social, sui blog. Altrettanto non è sicuro e non è furbo sostituire numeri con lettere maiuscole che gli assomigliano. Ad esempio sostituire il numero 4 con una A maiuscola nella vostra password o il numero 7 con la T maiuscola, il numero 1 con la I maiuscola non è una furbizia. Perché? Perché sono gli stessi accorgimenti che i motori, i robot che tenteranno di violare la vostra password andranno a utilizzare. Se dovete mettere delle lettere maiuscole non mettetele all'inizio delle parole che costituiscono la vostra password. Anche questa non è una manovra furba e verrà immediatamente provata dai motori di ricerca per scardinare le vostre password. I miei consigli. Consiglio numero 1. La password deve essere almeno lunga 8 caratteri. Questo lo richiede anche la normativa GDPR sulla privacy. La password va cambiata e va cambiata con una certa frequenza, minimo ogni 6 mesi e anche questa è un'indicazione della normativa sulla privacy GDPR. Includete nelle vostre password per rendere come dicevamo prima più complesse numeri, lettere, caratteri maiuscoli, caratteri minuscoli e simboli speciali. Volete avere un altro consiglio per fare password complesse? Utilizzate frasi conosciute di libri, di canzoni, di film, poesie e prendetene spunto per costruire la vostra password. Qui ne vedete un esempio. Ho finito la pillola di oggi. Un saluto da Andrea. Stay tuned.